Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale e benvenuti in mia casa. Io sono Amal, sono nata in Marocco, cresciuta in Italia e quindi raccolto il bello delle due culture. Attualmente vivo in Valencia, Spagna. Dunque, durante la quarantena mia sorella mi ha chiamato, stavamo parlando di più di meno e a un certo punto mi dice, ma perché non apri il canale YouTube tanto che sei a casa, dove condividi con le persone la tua esperienza e il tuo amore per la cosmetica. Io adoro la cosmetica, la cosmetica naturale e non. Mi piace tantissimo provare delle cose nuove, le cose diverse e quindi ho detto, ma sì dai, l'idoretta, apriamo sto canale. Mi piace tantissimo quello che faccio, mi piace tantissimo condividere con voi i miei video, le mie esperienze, ma soprattutto ho aggiunto altre rubriche come i miei viaggi qua a Valencia, la mia vita con la mia cagnolina e ho fatto una rubrica nuova dove parliamo di amore, di esperienze di vita con la mia amica Yami. Spero che mi seguite, spero che vi piacciono i miei video, vi iscrivete al mio canale. Grazie per le persone che mi hanno seguita e grazie alle persone che mi iscrivono. A proposito, il nome me l'ha scelto un'amica perché ho chiesto ai vari amici e familiari quale è il nome che posso dare al canale e mi hanno consigliato, grazie Eli, Specchio di Amal. Un specchio dove trasmetto tutta la mia vita, tutta la mia esperienza, tutto il mio modo di vivere. Comunque, 34 anni non dimostrarli in nessun modo. Sono felice per il risultato che ho ottenuto fino adesso e niente, bella gente... Ciao, seguitemi sul mio canale!